Una giovane coppia di fidanzati e mammo Iada è stata arrestata dagli agenti della squadra mobile dell'acquistura di Nuoro per detenzione illegale di esplosivo e armi da fuoco. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata a casa della donna, gli agenti della squadra mobile di Nuoro, insieme agli investigatori della squadra mobile di Oristano, hanno sequestrato un involucro di cartone a forma di candelotto con cannuccia utilizzata come miccia contenente 750 grammi di polvere tipo caccia mescolata a palline di piombo, unitamente a una sostanza di colore grigio. Gli accertamenti effettuati dagli artificieri del nucleo regionale dell'acquistura di Cagliari hanno fatto emergere l'effetto devastante all'ordigno anche per la presenza di palline di piombo. Inoltre nel corso della perquisizione è stato sequestrato un fucile da caccia con matricola brasa calibro 16 detenuto dal giovane nell'agro di Mammo Iada. Gli agenti hanno anche sequestrato 5 proiettili 9x19 Parabellum, 3 cartucce da 7,4 mm, 2 pistole scacciacani prive di tappo rosso e 3 walkie-talkie. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato rinchiuso nel carcere nuorese di Badecaros, mentre la fidanzata è stata ristretta agli arresti domiciliari.